Luigi Forte è uno dei soci di Agricola Forte e qua siete presenti a Verona tra i pochi operatori della provincia di Rovigo. Come vi presentate e cosa vi aspettate da questa fiera? Siamo imprenditori agricoli che lavoriamo con molti agricoltori in filiera dove raccogliamo e seminiamo l'erba medica, la trasformiamo in erba medica disidratata e quindi oltre dal fare a noi preme anche comunicare, quindi ogni evento siamo in fiera agricola apposta per comunicare il valore che ha il prodotto, quindi le piante che coltiviamo che poi diventano cibo per gli animali e cibo per l'uomo e anche per il pianeta. Cosa dire? Lo coltiviamo in un magico territorio e siamo anche orgogliosi perché è patrimonio dell'UNESCO, ce ne sono 724 nel mondo e tra l'altro è anche parco regionale del Delta del Po. Il vostro focus è pianeta terra, l'erba medica e benessere per il tuo corpo, quindi voi fate dell'eccellenza in un settore che ha valore aggiunto abbastanza limitato rispetto a altri settori agricoli. Allora, produciamo un prodotto che è chiamato commodity, ho voluto spostare sicuramente l'attenzione dalla commodity a un cibo che sono le piante che hanno grandissima proprietà curative e terapeutiche per gli animali e non solo, anche per l'uomo, partendo proprio, come vedete, dalla terra, quindi dalle nostre radici, che le nostre radici sono il territorio ma sono anche i nostri valori, i valori di ognuno di noi che i nostri genitori hanno insegnato a noi, noi e i nostri figli che si perpetuano nella vita. Le prossime sfide saranno l'arrivo delle immense terre dell'Africa, il problema anche dell'Ucraina post-guerra, quindi l'Italia potrà solo superire a questo con la qualità? Allora, l'Italia è un magico territorio dove è circondato da mari e da venti, abbiamo una biodiversità unica nel mondo, tra l'altro nel Parco dell'Elsa del Po, l'UNESCO l'ha certificata per la biodiversità e la sostenibilità, pertanto noi siamo anche orgogliosi e vogliamo portare il territorio italiano attraverso l'erba medica disidratata per uso alimentare umano nel mondo. Oh, what?